ciao a tutti e benvenuti nel video tutorial di oggi andiamo a vedere come poter realizzare questo pannello triangolare che nel mio caso mi servirà per la realizzazione di un copricostume ci tengo a suggerirvi che questi pannelli una volta realizzati possono tranquillamente essere utilizzati poi per la realizzazione di un top una canotta una semplice blusa o come nel mio caso un copricostume o perché no un abitino intero quindi diciamo che questo pannello si presta a molti progetti io per questo lavoro vado ad utilizzare il cotone papatia ecological cotton è un è un 100 per cento cotone 300 metri in 100 grammi questo prodotto io l'ho acquistato sul sito di lana mania l'uncinetto che andrò ad utilizzare per la realizzazione di questo pannello nel mio caso è il numero 3 ma ovviamente voi utilizzate sempre l'uncinetto in base allo spessore del filato che andrete ad utilizzare e tenendo conto anche dell'attenzione della mano bene vi accompagnerò passo passo perché come potete ben vedere abbiamo un po di di dismisura e per quanto riguarda la realizzazione del pannello quindi io arriverò dove vi spiegherò poi quali saranno le fasi che dovrete portare avanti per far sì che il pannello possa essere più lungo e più largo e poi procederete da soli bene detto questo non mi resta altro che dirvi andiamo al tutorial bene iniziamo facendo un cappietto che nel mio caso io conto anche già come prima catenella e quindi non lo vado a stringere e contando come prima catenella avvio 10 in tutto quindi 10 catenelle in totale questa è la prima la seconda la terza la quarta quinta sesta settima ottava nona e decima catenella una volta fatto le 10 catenelle carico il filo iniziando a contare da dalla prima catenella da sotto all'uncinetto vado a fare una due tre quattro cinque sei e dentro nella settima catenella entro e lavoro un punto alto carico il filo rientro nello stesso punto lavoro un secondo punto alto due catenelle di spazio vado a rientrare nello stesso punto e vado a realizzare altre due maglie alte quindi una rientro il lavoro la seconda carico il filo vado a saltare le ultime due catenelle una e due entro nella prima catenella quella che io vi ho detto che non dovevamo stringere appunto la catenella e lavoro una maglia alta singola quindi in questa prima riga abbiamo lavorato un punto alto singolo un punto ventaglio e un punto alto singolo giro il lavoro e ripeto la stessa lavorazione quindi entro nella prima maglia alta disponibile lavoro un punto basso e mi alzo di due catenelle per andare a simulare la prima maglia alta entro con l'uncinetto nelle due catenelle di spazio quindi nella parte centrale del ventaglio e ripeto il ventaglio quindi vado a fare due maglie alte due catenelle di spazio rientro il lavoro 2 maglie alte fatto il ventaglio vado a chiudere la riga lavorando una maglia alta sulla maglia alta singola quindi mi giro la catenella a favore di lavoro entro sulla terza catenella e lavoro il punto alto singolo ecco qua adesso giro il lavoro e in questo terzo giro andiamo a lavorare nuovamente maglia alta singola su maglia alta singola quindi entro lavoro sempre un punto basso e poi mi alzo di 2 catenelle per andare a simulare la prima maglia alta adesso entro sempre nella parte centrale dove abbiamo le nostre 2 catenelle e lavoro 2 maglie alte sempre tutto all'interno dello spazio delle catenelle 2 catenelle di spazio rientro ripeto altre 2 maglie 1 e 2 2 catenelle di spazio rientro e ripeto il terzo gruppetto composto sempre da 2 maglie alte 1 e 2 fatto questo vado a terminare il giro con la maglia alta singola quindi entro sulla terza catenella e lavoro la maglia alta singola ecco qua nel quarto giro andiamo a lavorare maglia alta singola su maglia alta andando a ripetere ovviamente sempre un punto basso e 2 catenelle carico il filo entro nello spazio qui dove abbiamo le nostre prime 2 catenelle e vado a lavorare un punto ventaglio completo quindi lavoro 2 maglie alte sempre all'interno dello stesso spazio 2 catenelle di spazio rientro e ripeto 2 maglie alte una volta creato questo primo ventaglio ne vado a creare un secondo nella parte centrale del ventaglio sottostante quindi qua 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte e una volta che abbiamo completato anche quest'altro ventaglio andiamo a terminare la riga sempre con una maglia alta singola quindi questa maglia alta singola la elaboreremo sempre sia all'inizio e sia alla fine della riga ora una volta che siamo giunti al quinto giro nel sesto giro andiamo a preparare quella che è la base per iniziare a fare i primi aumenti quindi io giro il lavoro ripeto sempre maglia alta singola su maglia alta quindi teniamo presente che questa maglia alta ci accompagnerà sia all'inizio che alla fine della riga per tutto il lavoro perché sarà appunto la cornice l'interno di questo pannello fatto questo entro adesso nel primo ventaglio disponibile vado a lavorare al suo interno un secondo c'è un altro ventaglio che vi ricordo che è composto da 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte tutte lavorate ovviamente all'interno dello stesso gruppetto a questo punto vado a fare due catenelle di spazio una e due e vado a ripetere poi ventaglio nel ventaglio sulla parte finale della riga come potete ben vedere questo lavoro si sviluppa un po a specchio a specchio che cosa vuol dire questo lo dico per chi magari è principiante a specchio vuol dire che noi andremo a ripetere sulla parte finale della riga tutto quello che noi andiamo a lavorare all'inizio appunto come nuovo giro quindi terminato il secondo ventaglio andiamo a chiudere la riga andando a lavorare maglia alta singola sulla maglia alta singola del giro sottostante ecco qua questo è quanto ci risulta per i nostri primi cinque giri 3 4 e 5 perfetto adesso nel sesto giro andiamo a preparare quello che sarà il prossimo aumento quindi lavoreremo sempre maglia alta su maglia alta ventaglio nel ventaglio e il ventaglio sarà composto ovviamente da 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte e poi procediamo andando a fare un punto v nella parte centrale qui delle catenelle che vanno a separare i due ventagli quindi entro qui e faccio un punto alto 2 catenelle di separazione rientro nello stesso punto e lavoro un secondo punto alto fatto questo andiamo a ripetere adesso quello che abbiamo fatto qui per l'inizio quindi ventaglio su ventaglio e terminiamo con la maglia alta singola sulla maglia alta singola ecco qua perfetto allora adesso per non insomma ecco per non prolungare di troppo il tutorial nel senso che andrò ad accompagnarvi comunque e sempre passo passo ma vi accompagnerò semplicemente solo quando noi dobbiamo fare la continuazione dei prossimi giri nella parte centrale quindi io staccherò di volta in volta la registrazione appunto proprio per non allungarla di troppo voi tenete presente che ogni volta che andiamo a terminare la riga quando giriamo il lavoro per ripartire con il nostro prossimo giro andate a lavorare sempre maglia alta singola su maglia alta e il primo ventaglio in modo che poi io ripartirò direttamente dalla sequenza centrale ok così in questo modo non rendiamo il tutorial troppo lungo e non vi stancherò settimo giro io ho fatto già la singola e il primo ventaglio e adesso procediamo per la parte centrale e ovviamente poi anche per la parte finale quindi fatto il primo ventaglio carichiamo il filo andiamo nella parte centrale del punto v e ripetiamo un secondo ventaglio quindi 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte quindi una volta fatto questo in questo settimo giro andiamo a chiudere la riga andando a ripetere punto ventaglio e maglia singola fatto questo giriamo il lavoro nell'ottavo giro andiamo a ripetere singola e primo ventaglio e ci rivediamo qui nella parte centrale ottavo giro singolo sul singolo ventaglio nel ventaglio a questo punto andiamo a fare 2 catenelle di spazio entriamo nel ventaglio centrale e ripetiamo il ventaglio quindi 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte e adesso andiamo a creare le 2 catenelle di spazio e andiamo a chiudere il giro andando a lavorare ventaglio nel ventaglio e singola sulla singola fatto questo giriamo il lavoro andiamo a ripetere singola sulla singola ventaglio su ventaglio e ci rivedremo qui nella parte centrale proseguiamo con il nono giro quindi ripetuto l'inizio che è uguale al giro sottostante andiamo a fare 2 catenelle di spazio 1 e 2 entriamo nella parte centrale del primo punto B e andiamo a ripetere i 3 gruppi di 2 maglie alte quindi entro lavoro il primo gruppo quindi 2 maglie alte 2 catenelle di spazio rientro e lavoro 2 maglie alte 1 e 2 ecco qua a questo punto vado a ripetere le 2 catenelle di spazio e vado a chiudere la riga andando a lavorare ventaglio sul ventaglio e singola sulla singola fatto questo giriamo il lavoro e ci portiamo avanti con il decimo giro andando a ripetere quello che abbiamo qui all'inizio di questo nono giro decimo giro a questo punto dopo fatto il ventaglio la nostra cornice quindi teniamo a mente che questo ventaglio e questa singola sia all'inizio che alla fine saranno la nostra cornice vado a lavorare 2 catenelle di spazio carico il filo entro nel primo spazio qui di 2 catenelle che vanno a separare i primi due gruppetti e lavoro un ventaglio quindi 2 maglie alte ovviamente sempre all'interno dello stesso spazio 2 catenelle rientro e lavoro 2 maglie alte 1 e 2 non faccio nessuna catenelle di spazio carico il filo e vado a creare in questa parte centrale tra il gruppetto centrale e quello finale un altro ventaglio quindi 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte lavorate sempre all'interno dello stesso spazio fatto questo andiamo a concludere la riga allo stesso modo come abbiamo fatto per l'inizio quindi 2 catenelle di spazio ventaglio e singola giriamo il lavoro ripetiamo la nostra cornice ci rivediamo per l'undicesimo giro allora l'undicesimo giro solo in questa fase di preparazione di avvio del nostro pannello sarà uguale al decimo poi quando abbiamo completato le sequenze che serviranno per aumentare questo pannello sia in larghezza che in altezza vi spiegherò poi appunto quali saranno quelle da rispettare e da continuare quindi questo undicesimo giro adesso lo andiamo a lavorare allo stesso modo come abbiamo fatto per il decimo quindi una volta che abbiamo avviato la nostra cornice fatte le due catenelle di spazio andremo a lavorare ventaglio su ventaglio in questo modo ma faremo semplicemente in questa zona le due catenelle in più ma andiamo a vedere nel dettaglio vi accompagno passo passo quindi fatto le due catenelle entro nel primo ventaglio disponibile e lavoro il ventaglio che vi ricordo è sempre di 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte lavorate all'interno dello stesso punto di catenelle del giro sottostante a questo punto l'unica variazione andiamo ad aggiungere 2 catenelle in questo punto quindi entriamo nella parte centrale del prossimo ventaglio e lavoriamo il ventaglio nel ventaglio in questo modo ripetiamo le due catenelle di spazio 1 e 2 e andiamo a terminare la riga andando a fare il ventaglio e la maglia singola facciamo questo e poi ci rivediamo nel prossimo giro allora in questo dodicesimo giro praticamente noi adesso andremo a ripetere una delle quattro sequenze di cui è composto questo pannello di aumenti ovvero andremo a ripetere quello che abbiamo fatto nel sesto giro praticamente noi nel sesto giro abbiamo fatto il ventaglio iniziale e poi abbiamo fatto il punto V questo qua e poi abbiamo terminato la riga così come abbiamo iniziato e man mano che siamo andate su abbiamo allargato come potete ben vedere il pannello però io adesso vado a ripetere sì questo rigo vi accompagno ancora una volta per le prossime tre sequenze che ripeto sono quelle che poi dovranno essere ripetute fino a quando non raggiungiamo la misura che dobbiamo raggiungere quindi andiamo adesso a continuare con questi tre giri che comunque io ho già fatto ma li ripeto semplicemente perché adesso noi ci ritroviamo su una base un pochettino più allargata quindi a questo punto per gli amici principianti è importante sapere dove e come continuare con le sequenze per gli amici esperti sicuramente non ci sarà questo problema quindi fatto la nostra cornice ok abbiamo dato il nome di cornice andiamo a ripetere le due catenelle una e due entriamo nel prossimo ventaglio e ripetiamo il ventaglio quindi 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte e poi entriamo direttamente in questa parte centrale e andiamo a sviluppare il punto B quindi maglia alta 2 catenelle rientriamo nello stesso spazio e lavoriamo una seconda maglia alta fatto questo su questa parte finale andiamo a lavorare praticamente quello che abbiamo fatto all'inizio quindi lavoreremo a specchio e lavoreremo quello che noi abbiamo ovviamente nel nostro giro sottostante quindi ventaglio nel ventaglio 2 catenelle ventaglio nel ventaglio e maglia alta singola bene in questo tredicesimo giro come potete ben vedere io sono andata a ripetere già singola sulla singola ventaglio nel ventaglio catenelle di spazio e ventaglio sul ventaglio ora da questo tredicesimo giro come potete ben notare quella che io ho chiamato la cornice adesso da un ventaglio siamo passati a due ventagli quindi questo che cosa significa? significa che per tutti i prossimi giri che noi andremo avanti a lavorare le varie sequenze che io adesso vi indicherò andremo a ripetere sempre all'inizio questa cornice che adesso come potete ben vedere si è raddoppiata rispetto all'inizio vedete? da 1 adesso siamo passate a 2 perché siamo passate a 2? perché praticamente questa è la parte che ci permette andandola a ripetere ci permette di allargare e di allungare il pannello quindi quelli che si chiamano classicamente gli aumenti quindi in questo tredicesimo giro una volta che noi abbiamo ripetuto la singola ventaglio catenella e ventaglio procederemo poi con il prossimo aumento che praticamente sarà come nel settimo giro ok? perché come potete ben vedere qui abbiamo fatto il nostro primo aumento in questa fase abbiamo ripetuto nuovamente questo primo rigo ora per gli amici principianti io vi consiglio di utilizzare un segnapunto quindi se avete questo segnapunto se no potete mettere uno spillino potete mettere un po' di nastrino qualunque cosa che vi faccia ricordare e vi faccia capire qual è la prima sequenza da iniziare per i vari aumenti che dovremmo fare per andare a allargare il pannello quindi da questo tredicesimo giro dove noi poi nel giro sottostante abbiamo lavorato il punto V prendete il segnapunto e mettetelo nella parte diciamo centrale di questo punto V che vi indicherà che è il primo giro di aumenti perché le sequenze di cui è composto questo lavoro in fase di aumenti sono ben 4 ok quindi sarà il giro del punto B il giro del ventaglio il giro del secondo ventaglio ma con gli aumenti nel laterale il giro del tris quindi 2 2 2 e poi il giro di assestamento per giro di assestamento quale si intende? si intende questo quello dove abbiamo fatto ventaglio nel ventaglio per tutta la riga ok quindi una volta che noi abbiamo fatto il giro di assestamento solo in questo punto solo in questo undicesimo giro noi l'abbiamo ripetuto ma da questo giro in poi quindi dal dodicesimo giro in poi le sequenze saranno solo 4 quindi sarà la sequenza del punto V il punto doppio, il punto doppio, il punto triplo e poi l'assestamento l'assestamento che sono ovviamente ventaglio nel ventaglio una volta che abbiamo fatto il giro di assestamento si andrà a ripetere il giro quello che è praticamente di preparazione il prossimo diciamo inizio di aumento ovvero nuovamente il punto V ecco vedete? quindi questo che cosa significa? significa che una volta che noi abbiamo raggiunto nuovamente la sezione del punto V praticamente noi dobbiamo adesso andare a ripetere questo giro qua dove noi all'interno del punto V faremo un punto ventaglio con la sola differenza che dopo aver sviluppato questo secondo ventaglio che rappresenta adesso una doppia cornice faremo due catenelle di spazio entriamo nel punto V ripetiamo il primo punto ventaglio quindi due maglie alte, due catenelle e due maglie alte una e due e una volta che abbiamo superato la parte centrale andremo a terminare la riga nello stesso modo come abbiamo iniziato quindi faremo le due catenelle di spazio ventaglio su ventaglio faremo poi le due catenelle di spazio continuiamo con ventaglio su ventaglio e poi la singola finale io adesso vi voglio accompagnare ancora fino alla fine delle quattro sequenze giusto proprio per farvi vedere da dove reiniziare con gli aumenti per far sì che il nostro pannello vada sempre di più ad allargarsi e ad allungarsi quindi giriamo il lavoro ripetiamo nuovamente tutto quello che abbiamo in questo giro fatto fino a raggiungere qui la parte centrale ho avviato il quattordicesimo giro che come potete ben vedere si lavora allo stesso modo del tredicesimo ovviamente in questa zona di cornici fatto questo faccio due catenelle di spazio entro nella parte centrale di questo ventaglio e vado a ripetere il tris il tris è composto da due maglie alte due catenelle 2 maglie alte lavorate sempre nello stesso punto 2 catenelle e termino con le ultime due maglie alte lavorate sempre nello stesso spazio centrale ecco qua e questa sarebbe la terza sequenza di aumento perché vi ricordo che questo pannello è composto di quattro sequenze di aumenti che andranno ripetuti di volta in volta fino a raggiungere le misure desiderate quindi fatto questo lavoriamo a specchio due catenelle ventaglio su ventaglio due catenelle ventaglio su ventaglio e terminiamo con la maglia alta singola quindi andiamo a ripetere quello che abbiamo nel giro sottostante anche in questo quattordicesimo giro quindicesimo giro ho lavorato le due cornici così come le abbiamo lavorate fino a questo punto e quindi sono giunta alla parte centrale e in questa parte centrale adesso praticamente questo sarà il giro di assestamento ovvero i tre giri che rappresentano gli aumenti per allargare questo pannello sono stati fatti adesso noi dobbiamo andare a fare il giro di assestamento e se vi ricordate il giro di assestamento è composto da semplicemente ventaglio su ventaglio così come abbiamo fatto appunto nei giri precedenti ma io vi accompagno ancora una volta per farvi vedere dove vanno sviluppati questi ventagli su ventagli perché noi qui abbiamo un tris e poi dopo ci rivediamo per un riepilogo totale quindi terminata la nostra prima cornice vado ad aggiungere due catenelle di spazio entro qui nel prossimo spazio di due catenelle che separa i primi due gruppetti e ci lavoro all'interno il ventaglio quindi due maglie alte due catenelle e due maglie alte in questo modo fatto questo vado a fare due catenelle di spazio e vado a creare il prossimo ventaglio qui nella parte centrale tra questo e questo gruppetto quindi ripeto le due maglie alte le due catenelle rientro nello stesso punto e ripeto le due maglie alte e a questo punto ho terminato ovviamente anche in questo giro la parte centrale e vado a terminare la riga così come ho fatto per l'inizio quindi vado a rispettare praticamente quello che ho nel giro sottostante terminiamo questo giro e poi ci rivediamo per un velocissimo riepilogo bene giunti a questo punto io vi vado a fare velocemente un piccolo riassunto quindi come potete ben notare il progetto è composto da quattro giri quindi quattro sequenze ognuna ovviamente diversa dall'altra che andranno ripetute fino a quando questo pannellino non avrà raggiunto la misura che ci occorre quindi le quattro sequenze che andranno ripetute sono praticamente queste da dove io vi ho consigliato soprattutto di segnarvele così in questo modo se voi avete la necessità di andare avanti con le misure sapete da dove dovete ripetere una volta che avete concluso 1, 2, 3 e 4 quindi da dove noi partiamo con il punto V è la nostra prima sequenza di aumenti il prossimo giro andremo a fare un ventaglio nella parte centrale del punto V nel prossimo giro nella parte centrale del punto V andremo a lavorare questo tris che è composto da 2 maglie, 2 catenelle, 2 maglie, 2 catenelle e 2 maglie e il giro di assestamento il giro di assestamento è composto praticamente da questo giro che sono ventagli nei ventagli partendo praticamente proprio dall'inizio quindi a parte questa cornice doppia che noi già la sviluppiamo di volta in volta ma quando arriveremo nella parte centrale svilupperemo un ventaglio nella parte centrale delle catenelle che separano il primo tris due catenelle di spazio e il prossimo ventaglio nelle prossime due catenelle e ovviamente poi andremo a ripetere sulla parte finale della riga quello che noi abbiamo fatto sulla parte iniziale della riga stessa quindi questo vuol dire che dal prossimo giro dopo il giro di assestamento noi andremo a ripetere maglia singola sulla singola ventaglio su ventaglio, catenelle di spazio secondo ventaglio quindi seconda cornice catenelle di spazio e nella parte centrale qui che ovviamente corrisponde alla parte centrale dove noi abbiamo avviato il punto V qui ripartiremo con il punto V e nel prossimo giro poi invece andremo a ripetere questo nel prossimo ripeteremo questo nel prossimo faremo il giro di assestamento e così via ora io ho fatto già i miei primi tre pannelli perché vi ricordo che per il mio progetto occorrono quattro pannelli perché appunto andrò a lavorare un abitino da mare praticamente come dobbiamo regolarci poi per quanto riguarda la misura come potete ben vedere nel mio caso io sono andata a lavorare 21 giri ma che non vi consiglio di tener conto i giri ma di tener conto i centimetri la misura che dobbiamo prendere per elaborare questo pannello per qualsiasi cosa che noi vogliamo elaborare quindi un top, una canotta, una blusa, un abitino lungo o corto che sia non importa dobbiamo andare a prendere la misura dalla spalla fino al sotto al seno quindi questo pannello dovrà essere lungo quei centimetri che avremo come misura presa dalla spalla fino al sottoseno quindi prendiamo questa misura vediamo quanti centimetri abbiamo e procederemo alla realizzazione di questo pannello con la lunghezza fino ad arrivare ai centimetri che abbiamo preso come misura quindi indipendentemente dalla misura che avrete dalla spalla fino al sottoseno così andrete a fare tanti giri di lavorazione quindi andando a ripetere il modulo che è composto da 4 giri fino a che non raggiungete questa misura nel mio caso io ho misurato dalla spalla fino a sotto al mio seno e ho praticamente 27 centimetri di lunghezza 27-28 centimetri quindi voi lavorerete ovviamente quei centimetri che vi occorreranno quindi questo è tutto per il momento questo video l'ho dedicato semplicemente alla realizzazione di questo pannello perché era necessario che voi insomma ecco vedevate come si elaborava il pannello nel prossimo video poi vi farò vedere come vado ad assemblare i pannelli e eventualmente poi continuare con la parte sottostante dell'abitino nel mio caso quindi detto questo spero che questo tutorial un po' lunghino ma meritato secondo me sia stato di vostro gradimento e vi sia piaciuto se è così io vi invito a lasciarmi tanti like un commento per farmi sapere di che cosa ne pensate e se vi fa piacere condividete io vi ringrazio per avermi seguita fino a questo punto vi saluto e vi lascio al prossimo tutorial ciao